ci troviamo alla rocca di angera oh sorry rocca di arona l'apsus perché la rocca di angera è proprio qui davanti e a questo punto andiamo a fare un bel giro all'interno del parco della rocca di arona ci troviamo chiaramente sul lago maggiore sopra ad arona sopra ad arona dove si trova la rocca di arona che guarda a casa sta al proprio di fronte alla rocca di angera prassino l'acero però quella bianca bianca è la betulla sì quelle bianche sono le betulle e primula selvatica ed ecco questo è quel che rimane della vecchia fortezza questa fortezza nasce nel 999 come fortezza per difendere il territorio milanese dall'eruzione di altri popolazioni ecco angera e qui sotto abbiamo arona c'è una videata una videata così sempre più in alto e adesso andiamo a mangiare alla corte della rocchetta finire sul lago maggiore per mangiare la pizza romana e un tagliere che non inquadro di salumi marchigiani non apprezzo dopo esserci rifocillate per benino continuiamo piano piano il nostro cammino e qui e qui e qui Grazie a tutti.